La mia idea che voglio condividere con voi è un'idea che sono certo già condividiamo e sono certo che ognuno di noi, tutti noi, si siederanno nel solitario più o meno una volta al giorno e ci rifletteranno su per vedere questo da un'altra prospettiva. Fabrizio De Andrè. Beh, anche questa idea è bello condividere. Cosa condividiamo con Fabrizio De Andrè? Io personalmente condivido un'idea che la bellezza non nasce dalla materia primissima, che la bellezza, l'interesse, la passione può nascere da una materia seconda, da un usato. Dall'età me nascono i fiori. Bellezza nel nostro caso è intesa come materia, come recupero. Fabrizio De Andrè cantava anche In via del campo ci va un illuso. E quanto spero di evitare? Di formazione sono un ingegnere, lavoro con incontaminanti al Dipartimento di Biotecnologie, sono stato contaminato dalle biotecnologie e tendo a pensare alla sostenibilità tecnica, ambientale, ma anche economica. Quindi partiamo dal concetto di sostenibilità. Partiamo un po' dai massimi sistemi, permettetelo, qui è il posto giusto per parlare di questi temi. La sostenibilità si basa come concetto del primo ministro lorvegese negli anni 90 sulle famose 3P, i tre pilastri, pillars, che sono planet, people, profit. L'intersezione omogenea di queste 3P dovrebbe portare al concetto di sviluppo sostenibile. Questo concetto di sviluppo sostenibile come si è tradotto? Beh, se pensiamo allo sviluppo reale, ancora tecnico ed economico, vediamo che il modello cambia ed è un modello che forse ci ricorda cosa? Ci ricorda Mickey Mouse. Questo è il modello di sviluppo che attualmente abbiamo, dove la PD Profit fa da locomotiva e planet e people sono accessori, spesso utilizzati per immagine, per marketing, efficaci senza dubbio, ma sicuramente non sono i propulsori dell'economia, dello sviluppo. Bene, questo ha delle conseguenze. E il 19 agosto 2014, molti di noi erano in ferie, il mare, il montaggio, ovunque, o comunque stavamo riposandoci. Stavamo godendoci le nostre vacanze estive e negli ultimi anni, in agosto cade un giorno molto importante, è l'Overshoot Day. Overshoot Day è un giorno in cui noi, con il nostro piedone, abbiamo superato l'impronta ecologica che la nostra terra ci riserva in modo rinnovabile. Con il nostro piedone, il 19 agosto, abbiamo iniziato a rosicchiare le risorse che sono dei nostri figli. Oggi servirebbero circa due pianeti se noi continuassimo, tutta la popolazione mondiale, a vivere con il nostro tenore per soddisfare i nostri bisogni. Non solo. Se vivessimo tutti con il tenore, con l'approccio dei nordamericani, ne servirebbero 3.44. Ne servirebbero circa quattro pianeti. E via giù. Noi europei viviamo con un piedone che è 2.5 volte più grande delle risorse che il pianeta mette a disposizione. Attenzione a questo grafico. Nell'asse della scisse, vedete, è la popolazione. I forti cambiamenti che sono in atto nell'economia globale vedono il nostro piedone ingrandirsi sempre di più. È il classico esempio in cui un piedone di un elefante schiaccia una mosca. Tutte queste sono riflessioni che noi scienziati che ci occupiamo di tecniche sostenibili, ci poniamo sempre, e le conclusioni spesso sono chiare. Stiamo distruggendo il pianeta, probabilmente, ma dobbiamo evitare assolutamente tutti gli ismi. Dobbiamo evitare il terrorismo ambientale, gli ecologismi. dobbiamo essere chiari in quello che troviamo e quando ci chiedono di rifrasare i nostri pensieri dobbiamo pensare a un approccio scientifico in modo da provare i risultati e da provare che il nostro piedone è tanto più grande di quello che ho offerto. Da circa due mesi mi è cambiata la vita perché due mesi ho avuto il mio primo figlio che penso abbia già capito il messaggio. Noi stiamo soddisfacendo i nostri bisogni compromettendo i suoi bisogni. Vi assicuro che da quando sono diventato padre nel profondo penso a questi temi perché quando pensiamo ai cambiamenti climatici all'ambiente pensiamo a un ambiente bene comune che però è più grande di noi. Io quando penso a mio figlio penso bene gli posso garantire se mi impegno un'ottima educazione gli posso garantire un futuro economia soldi va bene ma gli posso garantire uno sviluppo sostenibile? Posso garantire il suo ambiente per il futuro? beh il mio compito è disseminare queste informazioni ovviamente lavorarci nel mio ma far sì che tutti si rendano coscienti di quale può essere un approccio affinché loro e noi stessi nel nostro futuro abbiamo un piedone che è ridimensionato che diventa almeno dell'impronta del nostro pianeta. Quale può essere una possibile soluzione? Una soluzione può essere è quella di passare da un approccio economico lineare che quello ci ha sempre contraddistinto noi pensiamo di essere un punto in una linea prendiamo risorse facciamo i nostri prodotti le utilizziamo e quando questi prodotti non sono più utilizzabili li smaltiamo questi diventano rifiuti siamo un punto in questa linea che porta al piedone che si ingrossa ma una linea non è dove noi siamo collocati noi dovremmo essere collocati noi dovremmo essere punto in un cerchio la nostra economia lineare dovrebbe diventare economia circolare e questo ci permetterebbe anche di avere vantaggi competitivi pensando alle nostre attitudini ai nostri prodotti con un approccio che possa prendere risorse creare prodotti pensandoli già con una mentalità di eco design ovvero già pensandoli progettandoli in modo che quando noi li andiamo a progettare sapremo come smontarli e recuperare risorse questo si può fare in ambito bio è quello che noi facciamo all'Università di Verona si può fare in ambito hard quando pensiamo ai nostri prodotti e quindi pensiamo a come prendere metalli utilizzarli e come poterli recuperare questi cerchi che abbiamo in testa questi circoli devono essere analizzati sempre da un punto di vista globale in tanti progetti che noi vediamo in tanti articoli vediamo sempre i calcoli economici i calcoli finanziari questo non è sviluppo sostenibile non è intersezione delle tre P bene io mi occupo di acque reflue mi occupo di acqua per me l'acqua è sì questa quando la bevo ma per me l'acqua non è l'idea di rubinetto per me l'acqua è un'altra idea per me l'acqua non è blu per me l'acqua è marrone e il tema di quest'anno è oltre il muro vorrei andare oltre il muro e parlarvi di acqua già il pensiero di un muro e acqua ci fa capire come un muro non può ottenere l'acqua e quindi volevo farvi vedere questo muro un attimo vado oltre il muro a prendere il nostro muro questo è il peso della scienza volevo ringraziare gli organizzatori perché mi hanno procurato questo ho detto non mi importa il design il contenitore non ci interessa ci interessa il contenuto ed effettivamente il design non è male anche in questo caso beh quando noi pensiamo a questo magic box al nostro amico toilet pensiamo a tutto quello che ci buttiamo dentro pensiamo a le migliaia di molecole che sono sintetizzate per il nostro sviluppo e per noi questo è un bel muro dove trac tiro lo sciacquone e via tutto viene mangiato me lo immagino così io una volta che tiro lo sciacquone tutto scompare il muro mi permette di non vedere quello che è oltre e pensate solo a che disperazione ci prende quando lo sciacquone non funziona bene diventiamo matti vai o chiamo la polizia pensate quando quello che noi scarichiamo di cui ci vogliamo dimenticare va oltre il nostro muro e quindi rimane alla nostra vista bene ricordate noi siamo parte di un cerchio un cerchio non ha muri perché comunque posso raggiungere la parte che è oltre il muro beh a fronte di questo parlare di acqua significa parlare di un cerchio l'acqua non è un tubo non è una linea l'acqua è circolare il ciclo dell'acqua parlando dell'acqua urbana parte dalla captazione poi c'è il tubo che porta ad un impianto di trattamento dove impianto di trattamento significa impianto biochimico poi passo poi passo allo scarico e il mio obiettivo è quello di scaricare in modo che sia accettabile dal corpo d'acqua come è fatto un impianto di trattamento eccolo qui a questo sono particolarmente vicino perché ho iniziato il mio dottorato in questo impianto ho iniziato il mio dottorato già oltre il muro dei laboratori noi ricercatori spesso stiamo fuori dai laboratori nasciamo beyond the wall e come funziona un impianto subito rimuoviamo il materiale grossolano pensate solo a quanta cellulose posso recuperare quanta cartigenica posso recuperare poi tutto va a questa vasca centrale che è una grossa vasca biologica un gran pentolone di microrganismi che è disponibile ovunque nei paesi europei nei paesi del nord del mondo l'obiettivo è quello di creare un effluente che sia depurato liberato dagli inquinanti bene questo è l'approccio che attualmente stiamo seguendo ma è un approccio che comporta consumo di energia che comporta una grossa carbon footprint non è carbon neutral come il nostro TEDx prendete il vostro libretto e vedete che questo TEDx è stato realizzato in modo da essere carbon neutral l'obiettivo che dobbiamo porci è quindi quello di andare oltre questo concetto e far diventare il nostro depuratore una fabbrica di risorse una fabbrica di risorse che può portare alla boutique del WC alle risorse che io posso recuperare dal nostro WC parliamo ad esempio di nutrienti tutto quello che vedete qui è recuperato dalla cacca dei veronesi di fatto partiamo dal fosforo eccolo qui il fosforo è una risorsa che tra 50 anni finirà le risorse rinnovabili ho fatto due conti 50 ne ho 36 86 caspita riguarda anche me e quindi abbiamo iniziato a studiare il fosforo come recuperare fertilizzanti risorse che le cui miniere si stanno esaurendo più velocemente del petrolio e pochi lo sanno quando questo è un nutriente che sta scomparendo possiamo recuperare energia come recuperare gas scusate questo non potevo chiuderlo perché parliamo di idrogeno parliamo di metano come recuperare acque per il riutilizzo ma come recuperare anche molecole ad elevato valore aggiunto partendo da questo concetto partendo dal concetto che il nostro depuratore può diventare una bioraffineria basata sulle acque reflue una bioraffineria da cui creare nuovi prodotti sulla base dei nostri scarti partendo da che tipo di approccio scientifico? dall'approccio che tutto e ovunque e l'ambiente seleziona ovvero l'approccio della Microbial Community Engineering ingegneria delle comunità microbiche come funziona questa? bene facciamo un esempio parliamo di quello che forse già resi piuttosto noto ultimamente recupero di bioplastiche dalle acque reflue grazie per avermi le donate peronesi anche io ho contribuito quindi grazie a tutti noi bene noi da cosa partiamo? non partiamo da un cerco puro perché se tu prendi i cerchi puri e fai biotecnologie industriali questo appena lo metti nei rifiuti scompare partiamo da quel pentolone che tutti abbiamo a disposizione applichiamo pressioni selettive il nostro obiettivo non è di selezionare un ceppo che faccia il suo lavoro in quei pentoloni c'è è presente tutto quello che noi vogliamo in questo caso l'obiettivo è di selezionare dei batteri che in regime di ipernutrizione siano capaci come noi stocchiamo il grasso loro stoccano polidrossi alcanoati questo nome è così difficile ovvero un biopolimero che può avere differenti utilizzi quindi partendo dai nostri depuratori in dei bioreattori selezioniamo soprattutto questi batteri in maniera non sterile e alimentando rifiuti non alimentando food o feed selezionando una biomassa che è capace di produrre questi prodotti lavorandola in bioreattori e in estraendola siamo capaci di avere bioplastiche da scarti da acqua reflue in questo modo andiamo a ridurre l'impronta della nostra depurazione andiamo a far sì che il nostro depuratore diventi energy neutral o energy positive carbon neutral o carbon positive ma non posso solo far questo una volta che estraggo i miei biopolimeri partendo vedete dal depuratore estraggo seleziono dei ceppi che sono già all'interno del depuratore e da questo tipo di polimeri io posso produrre bioplastiche posso produrre biocarburanti posso produrre molecole ad alto valore aggiunto bene il mio depuratore i nostri scarti è diventato una bioraffineria e tutti noi siamo produttori di petrolio di fatto il nostro petrolio sono i nostri scarti beh a fronte di questo vi direte bravo perfetto ma l'acqua è un tema globale pensate anche passando dagli obiettivi del millennio agli obiettivi sostenibili dopo il meeting di Rio l'obiettivo da cui siamo più distanti è quello dei sistemi sanitari per tutti ovvero siamo molto vicini ad avere acqua potabile per tutti ma dai sistemi sanitari siamo lontanissimi pensate che 2.5 miliardi di persone ad oggi non hanno accesso a sistemi sanitari con tutte le conseguenze ambientali sanitarie ed economiche che questo ha molti conoscono il World Water Day meno conoscono il World Toilet Day il nostro amico qui è un protagonista ultimamente immaginate la vostra vita senza un WC immaginate diventeremo matti probabilmente beh quindi qual è l'obiettivo l'obiettivo è di pensare all'economia globale che ha luoghi e tempi diversi in modo da avere un'economia circolare low cost e ad esempio in tutte queste zone che non hanno sistemi sanitari attuali pensarli già in un'ottica circolare ovvero fare una bella raccolta differenziata nel WC separare le urine che sono ricche i nutrienti e le feci che possono essere dopo trattamenti utilizzate come ammendante per recuperare risorse beh grazie a questo approccio in tutto il mondo potremo probabilmente dall'etame far nascere fiori io vi ringrazio adesso devo andare grazie 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 grazie